Un cartellone estivo presentato già a marzo per venire incontro agli operatori turistici nell'ambito di una programmazione pianificata lo ha illustrato questa mattina in comune il sindaco Antonio Spazzafumo insieme alle assessore Lina Lazzari e Laura Camaioni alla presenza delle associazioni di categoria. La parola d'ordine sarà identità tra prime volte con ferme e grandi ritorni. I fari si accenderanno soprattutto sui campionati italiani di pattinaggio dall'11 al 14 maggio, sulla supercoppa italiana di beach soccer dal 31 maggio al 2 e 3 giugno, sull'esibizione delle frecce tricolori il 2, il 3 e 4 giugno, sul festival dell'arte sul mare dal 3 al 25 giugno e sugli incontri con l'autore. È un cartellone dove si parla di territorio, dove gli eventi che noi stiamo proponendo sono eventi che hanno un risalto a carattere nazionale, fermo restando che all'interno di questo contenitore, di questo brand che creeremo appunto degli eventi della città di San Benedetto sviluppati su tutto il territorio, piceno ma anche nazionale, ci saranno anche degli eventi a carattere proprio locale. Vogliamo fare un'unione tra quelle che sono le realtà locali, quindi con un richiamo locale, con eventi con il richiamo appunto nazionale. Andiamo a toccare la cultura, il turismo, lo sport, abbiamo cercato di mettere nel contenitore eventi importanti, chiaramente di rilevanza nazionale, perché questa città merita di cominciare a guardare e di avere cose un po' più belle. Meritiamo appunto dei palcoscenici più importanti, questo è quello che ci siamo messi in mente di fare, di creare. Fermo restando che stiamo appunto cercando di fare, di creare una regia, quindi creare un marketing territoriale che possa farci da guida per andare poi a verticalizzare quegli eventi che servono al nostro territorio, a tutti i territori limitrofi. La novità assoluta sarà rappresentata dal Festival del Memoir promosso da Andrea Avianello il 7, 8 e 9 luglio, mentre il Riviera delle Palme ospiterà il test match di rugby tra Italia e Romania il 19 agosto, a quattro anni, dalla gara degli azzurri contro la Russia. Torna in Riviera, dopo la migrazione degli ultimi anni a Grotta Mare, il fashion mood, la sfilata di moda organizzata dalla CNA, che coinvolge anche gli artigiani. Felici dell'incontro di oggi nel comune di San Benedetto, dove l'amministrazione ha posto tutte quelle che saranno una sorta di calendario eventi, dove siamo particolarmente lieti, posso dirlo con anticipo, che come CNA di Ascoli Piceno riporteremo anche la sfilata basato su un concorso anche legato a un concorso di giovani stilisti e siamo particolarmente lieti di poter alzare il livello anche con una due giorni di sfilata che faremo con il comune di San Benedetto e Grotta Mare, quindi ulteriore sinergia che poi stiamo organizzando e che potrà venire fuori all'interno appunto dei calendari estivi che vedono protagonista la costa. San Benedetto sicuramente merita di essere protagonista per l'estate a venire proprio perché ha diverse iniziative e soprattutto anche legato ai numeri delle prenotazioni che già si vedono che sono molto attive e molto presenti, quindi su questo aspetto come associazione siamo pronti a dare una mano e ci siamo a disposizione con i nostri imprenditori anche che sono molto propensi a quelli che sono due criteri su tutti che sono la sicurezza, la sostenibilità ambientale. La CNA che aveva iniziato un evento importante, una sfilata che è iniziata, è nata a San Benedetto del Tronto, poi non so per quale motivo si è stata spostata, si è trasferita, io l'avevo già vista un paio di volte, mi era piaciuta come ospite, mi era piaciuta, ho chiesto alla CNA se era possibile riportare questo evento a San Benedetto del Tronto e niente, ci siamo messi d'accordo e la CNA riporterà un evento bellissimo dove ci saranno degli artigiani locali che proporranno, faranno vedere quelle che sono le loro opere. Ci sono degli artigiani veramente bravi nel nostro territorio a cui va dato un palcoscenico importante. Grazie a tutti!